Abbiamo appena finito di fare il nostro set qui al Teatro del CPM, è stato emozionante, è stato anche strano suonare alle 11 di mattina, però si è creata una bolla magica, per me è anche un'emozione tornare al CPM perché io mi sono diplomata qui qualche anno fa ed era un po' che non tornavo, è stata un'emozione molto bella e ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato per il calore e l'accoglienza che abbiamo avuto, quindi è stato bello tornare, grazie. Per me è stata la prima volta e comunque è emozionante perché sentivo la sua emozione e in realtà perché questo posto è molto conosciuto, quindi non sapevo bene cosa aspettare. È famoso, il famoso CPM. Beh sì, è famoso ed è stato bello vedere tanti ragazzi che hanno voglia di conoscere altre cose. Quindi in bocca al lupo a tutti per la vostra ricerca, la vostra strada musicale.